Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Yorobi. Oggi ti faccio vedere com'è semplice forare un muro per appendere un quadro o magari una mensola. Quindi cominciamo subito. Se troverai interessante questo tipo di video, beh, fammelo sapere qui sotto nei commenti, lasciami un bel like e iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Prima di eseguire il foro, assicuriamoci che la punta sia dello stesso diametro del tassello che dobbiamo inserire. Per eseguire un foro perfetto non dobbiamo muovere il trapano, ma anzi cercare di essere sempre perpendicolari tra punta e parete. Eseguito il foro, andiamo ora ad inserire il fischer all'interno del muro e aiutiamoci con un martelletto. Perfetto, il gioco è fatto. Ora abbiamo un valido tassello per appendere un quadro o un oggetto. Perfetto, il gioco è fatto.